Ciao, stai pensando di visitare la Germania o trasferirti per lavoro? Ovviamente devi conoscere la lingua tedesca. Sì, chiaramente, perché ti permette di integrarti più facilmente. Allora non hai alternative, la Sprachschule Active è il posto giusto per imparare una lingua in modo rapido. E con offerte super vantaggiose. E conoscere nuove persone divertendoti. Ti aspettiamo a Monaco da Sprachschule Active! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!